naturalmente qui su opinione di ruzio vi porterò alla ribalta la mitica sola a oi logicamente una donna che era di tutto un phantom aveva diciamo un corpo che era un incanto lei era una maestra cioè studiava per diventare una maestra d'asilo e di tutto di tutto un tratto si trovò davanti un gran maestro dell'eros logicamente questo maestro dell'eros gli ha educato come state vedendo adesso in queste immagini quello che era la sua fisicità la sua corporalità la sua capacità di trasmettere all'altro la voglia di sì lei capì in un istante che tutto ciò poteva dare gran fervore a se stessa tutt'altro che quello che poteva consolarle i suoi gran libri ma che in maniera molto mesta comunque sia ne dava una lezione agli altri e questo si studiava studiava ma al tempo stesso come tutti vedeva anche altro la sua capacità col proprio corpo dimostrarsi e di poter e di poter trarne anche giovamento così stessa non dico materiale ma anche di vedersi esplorare di potersi vedere fin dove poteva arrivare con le proprie forme a piacere all'altro e capirsi così fondamentalmente conoscersi comprendersi volersi bene e al tempo stesso esser felice con se stessa finire gli studi poter fare la maestra e sola hai alla fine di venne di venne una persona che fu una regina di se stessa con tanto di cappella a oi tanto di cappello a oi divenne anche lei un artista che sfugge a schicchi ma lei mondiale fu e divenne e ancora vive i suoi ambienti campestre un saluto da pieno di lucio ospite di questa serata con le immagini di sola hai noi vi lasciamo e vi lascio con piacevole eros altrimenti anch'io appaglio stanco e tant'altro voi che dopo 5 minuti volete girare canale e avete ragione dai questo è meglio dai l'altro è un pippone perché grazie